Cristiana Canosa, vice sindaco di Ortone, il nuovo anno è iniziato da qualche giorno e continuano i tanti lavori, tanti cantieri aperti, qui ne abbiamo uno alle spalle. Diciamo che il nuovo anno per noi è stato una continuazione dell'anno precedente perché uno dei punti di forza di questa amministrazione sono appunto gli investimenti nei lavori pubblici. Questa città aveva bisogno di essere un po' ricostruita da questo punto di vista per riapproparsi un po' di quello che è il suo ruolo. Cioè noi se dobbiamo fare turismo, se dobbiamo attrarre investimenti è chiaro che dobbiamo essere accoglienti dal punto di vista dell'immagine, dell'organizzazione e dei servizi, la qualità dei servizi della città. Qui siamo davanti a uno dei cantieri più chiacchierati che è praticamente la realizzazione dell'ascensore per permettere la totale accessibilità al palazzo comunale. Il nostro palazzo comunale è antico con evidenti problemi e quindi l'unica possibilità era farlo esterno. Dopo l'autorizzazione a parte della soprintendenza siamo andati avanti. Così come stiamo rifacendo la passeggiata orientale, insomma una città come Ortona aveva 30 tipi di mattonelle a pezze, più catrame e altre cose. Una città come Ortona deve avere una dignità superiore rispetto a quello che sono le esigenze dei cittadini e le esigenze di chi vuole venire a stare a Ortona, abitare a Ortona oppure a villeggiare ad Ortona. Si tratta ovviamente anche di cantieri che riguardano tutta la città, quindi anche sulle contrade abbiamo dispiegato le forze perché era giusto che le contrade fossero recuperato il tempo perduto. Quindi un grosso cantiere di illuminazione pubblica, un grosso cantiere di rifacimento di altre strade con il sindaco Castiglione. Mai le contrade hanno visto questo impegno e dopo andiamo avanti anche con la realizzazione dei vicoli, con la realizzazione di altre opere di completamento come il Giro degli Olivi, un'altra strada diciamo simbolo della città di Ortona lasciata per anni al totale degrado.